eccoci qua buonasera a tutti bentornati sul canale mauromastri detailer come sapete ogni tanto dedico il canale a una diciamo una playlist che si chiama di tutto un po dove mi piace occuparmi anche di altre questioni che non siano ovviamente quello prettamente del mondo del car di tecnic già in altri video vi avevo spiegato vi avevo detto l'interesse che ho avuto aziendalmente parlando con il caso majorana e pelizza tant'è che nel 2020 sapete che avevamo anche organizzato una bellissima conferenza che purtroppo per il coppia non abbiamo potuto fare poco tempo fa circa un mese fa è uscito un bellissimo libro che si chiama il caso majorana pelizza del giornalista reino di stefano e quindi visto che tra noi c'è anche l'amicizia gli ho chiesto se era interessato a fare un'intervista sul canale proprio inerente al libro in questi giorni tra l'altro purtroppo ricorre anche anniversario della morte di rolando e ci sembrava anche un po insomma ricordarlo anche con queste queste parole che stasera sentirete ascolterete e quando andremo in onda poi potrete guardare tutti grazie rino e benvenuto sul canale ciao mauro grazie a te buonasera a tutti grazie io ho preparato una serie solitamente i miei insomma chi mi segue sul canale sa che le mie interviste sono sempre preparate non sono fatte a caso quindi ho preparato una serie di domande e darò a rino tutto il tempo necessario per rispondere ogni singola domanda questo perché ci teniamo tutte e due a fare chiarezza su tante cose che purtroppo su web continuano a essere scritte e anche tra l'altro in maniera in malo modo anche offendendo anche le persone questo non è mai bello uno può pensarla anche diversamente e anche noi utilizziamo sempre il condizionale però quando si passa da questo non credere a delle cose alle offese non è bello quindi stasera cercheremo anche di fare un po di chiarezza su tanti argomenti io partirei rino intanto subito con il farti la prima domanda giungo anche qua in video questo è il libro e che parleremo principalmente stasera di questa inchiesta quindi il titolo del libro dice il caso majorana pelizza come se questa vicenda sia proprio un caso di cronaca seppur tacciuta da molti fino a dove ti sei spento per la tua indagine su questa vicenda dunque e permettimi una piccola parentesi per ricordare appunto rolando proprio per dire che il sistema migliore per ricordarne la figura è quello della massima onestà possibile cioè far vedere questo caso per quello che ora fin dove mi sono spinto io ho cercato e ho ragionato da giornalista professionista nel senso proprio come se fosse stato un lavoro che io dovevo svolgere per cercare di scoprire quale fosse la verità l'intera verità su questa stranissima vicenda perché è veramente strana ora io avevo quando ho iniziato questa mia questa mia indagine avevo pochi elementi che indicavano la traccia da seguire e tuttavia man mano che la vicenda proseguiva man mano che io pubblicavo i miei articoli sul giornale e allora il discorso ti faceva sempre un tantinino proprio ben poco ma un pochino ogni volta più chiaro allora è tanto per cominciare stiamo parlando di un'inchiesta che è iniziata nel gennaio del 2009 ed è terminata almeno fino ad oggi per per quello che possiamo come dire concludere sulla base di tutte e tutte le notizie che sono venute fuori nel gennaio del 2023 e del scusatemi nel sì certo nel gennaio del 2022 nel gennaio del 2022 quando è venuto a mancare rolando pelizzi ora che cosa qual era la mia intenzione la mia intenzione era quella di far capire alla gente a coloro che al lettore ecco far capire al lettore di che cosa si trattava quindi io ho cercato di sviscerare completamente l'argomento anche se mi sono reso conto che c'erano parecchi problemi man mano che le indagini proseguivano questo è per rispondere alla tua prima domanda immagino anche perché non è un caso veramente veramente delicato da prendere anche con le pinze e ma il perché questo poi un po legge detto perché farlo uscire adesso proprio in questo preciso momento anche storico c'è una ragione particolare oppure dovuto solo le tempistiche editoriali che ovviamente hanno per chi magari un neofita nel mondo dell'editoria ci sono comunque dei tempi magari uno scrive il libro e poi la pubblicazione avviene uno o due anni dopo perché appunto c'è una scaletta da rispettare purtroppo anche dovuta al covid certamente parliamo anche di esigenze editoriali nel senso che bisognava far vedere bisognava far leggere un libro su su questo argomento non troppo distante da da quando purtroppo è venuto a mancare rolando quindi le esigenze editoriali ci sono però per quanto mi riguarda io non avevo in un primo tempo intenzione di scrivere un libro anche perché contavo eventualmente di scrivere un libro di questo tipo in presenza di rolando e non certamente senza di lui nel senso che speravo che prima o poi e glielo ho detto diverse volte rolando mini mi fornisse una prova che avrebbe giustificato il mio interesse in questa in questa in questo caso e soprattutto dimostrasse che tutto quello che era accaduto era reale non era una cosa buttata lì ora quando lui è venuto a mancare appunto ho avuto non me l'aspettavo ecco io l'avevo visto appena un mese prima per per cui ci sentivamo per telefono insomma non è una notizia che per certi versi mi ha anche un po sconvolto non mi aspettavo che che lui non ci fosse più ecco anche se aveva anche se aveva una certa età ma ero talmente abituato al rapporto così di dialogo con lui e che il fatto che improvvisamente non avessi più il mio interlocutore mi ha creato dei problemi anche poi da un punto di vista amichevole perché ormai eravamo diventati amici quindi ho sentito la sua mancanza ora subito dopo la morte e poco dopo io ho avuto una lunga telefonata con un suo amico un suo amico di vecchissima data cioè si conoscevano da bambini ecco e parlando con lui mi sono reso conto così proprio diciamo così scambiandosi dei punti di vista mi sono reso conto che su questa storia si stava facendo veramente troppa confusione io nei miei articoli ho sempre cercato di essere molto chiaro molto preciso affinché chi leggeva si rendesse conto della situazione ma mi rendo conto che insomma dei singoli articoli non è che possano cambiare le situazioni così dopo aver parlato con questo suo amico ho deciso che avrei messo insieme tutte le mie ricerche e avrei scritto un libro sull'argomento ho impiegato circa sei mesi per scrivere il libro cioè ho messo insieme tutte queste cose tutte queste notizie che avevo accumulato e mettendo tutto in ordine cronologico anche perché io ho un metodo di lavoro cioè ogni volta che accadeva qualcosa che io seguivo Rolando Pelizza in una determinata situazione io scrivevo immediatamente il resoconto e questo mi consentiva di non perdere i dettagli dell'accaduto anche perché è una storia molto complicata lui tra l'altro tante volte andava proprio a come dire spedito sul suo racconto quindi era anche difficile seguirlo infatti così invece facendo un resoconto completo sia per quanto riguardava i personaggi sia per quanto riguardava quello che era stato detto io avevo una trascrizione fedele dell'accaduto per cui quando ho deciso di scrivere il libro a un certo punto non ho dovuto far altro che mettere insieme tutta questa roba e poi concludere con quella che era la fine di questa indagine che aveva lui come protagonista principale cioè Rolando Pelizza come il principale protagonista di questa vicenda certo per cui quindi insomma circa sei mesi che era poi la domanda tre che comunque hai già pienamente risposto che non sono pochi comunque per scrivere un libro soprattutto perché essendo un libro inchiesta ci sono davvero come hai detto tu i dettagli che sono fondamentali su una storia di questo tipo tra l'altro quindi e ci sono cose che che prima non erano mai state dette e ne scritte perché secondo te le parti coinvolte nella vicenda di Pelizza le hanno tra virgolette tacciute fino ad oggi perché erano verità scomode verità scomode ma soprattutto verità che non si potevano dimostrare cioè quando io nel libro parlo del presunto incontro che si sarebbe svolto in Vaticano tra Rolando Pelizza e il presidente americano George W. Bush in presenza di diversi cardinali che tra l'altro in un resoconto di Pelizza vengono citati tutti con nome e cognome uno per uno è ovvio che non è che ci si possa basare soltanto su quello che era il resoconto scritto appunto dall'interessato cioè da Rolando Pelizza non è che si può dire che una persona qualsiasi questo imprenditore semi sconosciuto che aveva un passato anche discutibile per tanti versi perché non dimentichiamoci che lui è stato ha ricevuto tre ordini di cattura internazionali nel corso degli anni e poi tutti e tre revocati è sempre stato assolto da qualunque accusa la sua fedina penale era pulita però insomma tutto questo passato piuttosto nebuloso non poteva far come dire far pensare che tutto quello che era scritto nei suoi racconti poi corrispondesse alla verità dei fatti per cui prima di poter dire che lui aveva incontrato il presidente americano ci volevano perlomeno delle verifiche verifiche però che non era possibile fare perché chi è che ti dice cos'è il governo americano io chiedo al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che se c'è stato o non c'è stato l'incontro tra George W. Bush e Rolando Pelizza ma appunto mi mandano a spigolare anche se per esempio nel resoconto di Pelizza si parla quando George W. Bush dice adesso fate entrare il fotografo allora ci sono anche le fotografie di questa storia ma dove sono e non solo per esempio il contratto che lui avrebbe firmato ma dov'è la coppia con le firme di coloro che lo hanno sottoscritto e lì le firme dovevano essere tre cioè quella dei due interlocutori presidente americano e Rolando Pelizza e quella di un cardinale che faceva da garante a questa operazione è evidente non è che bisogna essere dei geni per comprendere che nessuno avrebbe mai detto avrebbe mai ratificato un incontro di questo genere per cui erano verità scomode poi non solo per esempio un'altra cosa era quella del lavoro che Pelizza sosteneva di fare per conto di presunti americani senza specificare che lui parlava genericamente di CIA ma chiunque abbia un po' di come dire conoscenza dell'argomento sa che gli Stati Uniti hanno diversi servizi di informazione non hanno certamente solo la CIA la CIA è quella più famosa dell'agenzia che si occupa del controspionaggio all'estero all'estero parlo degli Stati Uniti cioè non può lavorare all'interno del proprio territorio perché quello è zona area di competenza dell'FBI e invece all'esterno all'estero sì questo è quello che dovrebbe essere lui Pelizza parlava sempre di questa CIA però non c'erano elementi da CIA è una cosa generica si sapeva che fossero servizi segreti americani ma di dettagli non ce n'erano ogni tanto riferiva il nome di qualche agente lui stesso diceva però non so se è vero o falso questo è quello che mi dicono si sapeva mi pare che mi sembra di ricordare nel libro che però in quei giorni lì Bush era davvero in Italia la data adesso vado a memoria mi pare nel 2007 e quel giorno io infatti ho riportato un articolo del Corriere della Sera uno scalcio di un articolo del Corriere della Sera dove si diceva che appunto Bush era arrivato all'aeroporto di Roma e poi aveva incontrato il Presidente della Repubblica e poi era andato direttamente in Vaticano dove aveva incontrato Benedetto XVI quindi il giorno di cui parlava Pelizza in effetti Bush era a Roma ed era in Vaticano però questo non è sufficiente per spiegare l'altro incontro quello che lui diceva fosse avvenuto ecco è per queste cose che non si è parlato di certe notizie perché poteva sembrare che insomma fossero inventate di sana pianta poi in effetti la cosa è un po' più complicata perché appunto basterebbe leggere quello che lui ha lasciato cioè appunto il resoconto che lui ha lasciato di quell'incontro con tutti i nomi dei cardinali eccetera insomma ma come si fa a coinvolgere prelati di altissimo livello in una situazione di questo genere ben sapendo che nessuno nessuno avrebbe mai confermato un incontro di quel genere lì Mauro? Mi senti? Sì sì adesso ti sento Ah no scusa stavo dicendo che appunto andare poi ad intervistare questi altri prelati lo stiamo vedendo anche nel caso di Manuele Orlandi che hanno appena riaperto che ovviamente nessuno parla Beh è ovvio È ovvio E quindi anche in quel caso visto il tema delicato che si trattava a Pelizza e a Maniprane poi adesso approfondiremo era un po' improbabile probabilmente loro lo sapevano che nessuno avrebbe mai poi rivelato queste cose quindi diventava davvero complicato e fino a qui cioè già arriviamo in già anni di indagini che tu hai fatto quindi a un certo punto non ti è mai proprio venuta voglia di abbandonare tutto e dire adesso basta non voglio più occuparmene perché il libro parla e ricostruisce tutte le vicende della storia di tutti gli anni ricordiamo che tu hai iniziato mi sembra negli anni 90 No 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 nel 2009 dal 2009 al 2022 quando è venuto a mancare Rolando è venuto a mancare Rolando e non ti è mai venuta voglia proprio di dire basta non ce la faccio più una volta a dire il vero è successo una volta che avevo litigato con lui sempre per la sua mania del segreto lui aveva questo sono tenuto al segreto sono tenuto al segreto sì va bene ma insomma certe cose le devi spiegare anche perché non puoi credere che qualcuno si metta a leggere la tua storia e poi non possa verificare nulla di quello che tu dici io ho cercato di farglielo capire così come per esempio diverse volte gli ho ricordato gli ho detto guarda che qui siamo tutti mortali tutti abbiamo una certa età a un certo punto bisogna pensare a quando non ci saremo più e agli interrogativi che si porranno coloro che leggeranno tutte queste cose quindi per me sarebbe stato doveroso forse non è neanche il caso di usare il condizionale era doveroso dire qualcosa di più però lui non ci sentiva mi guardava sorrideva e tirava avanti senza fornire spiegazioni tant'è vero che molte cose che chi legge troverà nel mio libro non sono state dette da lui perché io non potevo seguire lui e basta eh no io cercavo di verificare le cose cercavo di saperne di più e quindi per esempio insomma anche se lui lui diceva che non mentiva lui avrebbe messo la mano sul fuoco io non mento assolutamente eccetera d'accordo però ometteva ometteva di dire determinate cose per cui e poi non ci si arrivava a verificare le notizie capisce? perché per una persona che magari le cose le ha vissute per lui è quasi normale raccontarle e per lui è verità ma dall'altra parte non si può mai prendere però roccolato tutto ciò che viene detto ma una storia sarebbe da occhi e quindi diventava lui la raccontava io lo ricordo anche negli incontri che facevamo tu l'hai conosciuto lui raccontava proprio con una semplicità le sue le sue vicissitudini che a volte ti dici ma siamo dentro in un libro siamo nella realtà perché sai quando comincia a parlare di Majorana comincia a parlare della macchina comincia a parlare degli esperimenti la trasmutazione cioè diventa davvero complicato ed è qui che purtroppo c'è il problema appunto che nasce sul web dove le persone cominciano ad attaccare perché fin tanto che non stiamo attenti e grazie a Dio per fortuna anche con questo libro secondo me ci potrà fare diversa chiarezza poi liberissimi sempre di credere o non credere perché è giusto che sia così ma perlomeno magari tante risposte come ci siamo detti forse ecco uno si pone delle domande e avrà determinate risposte in maniera più o meno ecco giusta a differenza invece di quello che viene detto spesso in maniera errata certo che non era un personaggio facile una persona facile da gestire questo no io l'ho sempre stimato come persona e io ho voluto bene nel mio limite ho cercato anche di aiutarlo soprattutto nei problemi di salute che aveva e a me ha fatto sempre tanta tenerezza quando a volte mi raccontavo tra l'altro un'occasione particolare quando raccontavo il periodo di Barcellona si era anche commosso dopo sai per la sua vita per quello che ha dovuto passare non è stato sicuramente semplice non è stato semplice quindi mi immagino che anche per te che l'hai seguito così da vicino per tutti quegli anni hai sicuramente voglia di dire adesso basta probabilmente è anche venuta infatti scusami Mauro vorrei fare però un piccolo inciso proprio sulla base di quello che tu hai appena esposto il discorso del credere o non credere io vorrei che le persone che in questo momento ci stanno guardando focalizzassero una certa situazione guardate che questo non è un atto di fede stiamo parlando di un fatto di cronaca ok di qualcosa che è accaduto davvero ora si può discutere dei contorni dei dettagli dei protagonisti delle 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 storie che riguardano questa vicenda ma non si deve credere che si deve che si debba fare un atto di fede nei confronti di questa storia sì sono d'accordo hai usato la parola giusta chiarissimo questo vorrei che fosse veramente chiaro giusto so che parlo con te con una persona che ha vissuto anche lui l'esperienza di 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 Rolando Pelizza per cui sai di che cosa di che cosa parlo coloro che invece non hanno avuto questa esperienza devono sapere che stiamo parlando di un fatto di cronaca con tutto quello che concerne un fatto di cronaca cioè diverse notizie notizie che devono essere verificate ma non è una favola ok cioè la macchina c'era davvero non è che non c'è posto infatti il discorso se mai è la documentazione scientifica su questa macchina che non c'è non l'abbiamo non sappiamo come funziona ma non è che la macchina non ci fosse si parla adesso qui vedo la trasmutazione da gomma piuma in oro ora questo è quello che i docenti del Politecnico di Milano dicevano Babbo Natale ok certo perché è assolutamente assolutamente inconcepibile per le cose che diciamo per la fisica che conosciamo noi che ci sia che ci possa essere una macchina che fa operazioni di quel tipo lì ok però se torni indietro ecco qui si vede un mattone e si vede una una mannaia no sì ecco e c'è stato qualcuno che ha fatto fare le analisi analisi chimico-fisiche su non so se questa mannaia o se o su un altro acciaio forato o dalla macchina di Rolando Pelizza quando io ho consegnato perché mi erano state date queste queste analisi ho consegnato l'incartamento ai docenti del Politecnico di Milano l'atteggiamento di questi signori è un po' cambiato perché se uno va nel libro vede l'incartamento degli esami di queste analisi si è scoperto che lì nel bordo della mannaia dove c'è l'alone scuro e quella il foro a forma di quadrifoglio diciamo ecco quando hanno analizzato i bordi hanno trovato che in quel bordo cioè nel punto dove aveva colpito la macchina c'era la presenza di altri minerali che non non dovevano esserci perché mettiamo che questa mannaia sia stata colpita da un raggio laser di eccezionale potenza il raggio laser colpisce fora crea un danno all'oggetto ma non modifica certamente la struttura molecolare del metallo lo fora lo brucia lo liquefa ok ma non cambia la struttura del metallo per cui i metalli che sono stati riscontrati in quel foro da dove venivano ovviamente non lo so io non lo sapevano loro non lo sa nessuno ma le analisi fatte parlano molto chiaro si è verificato quel fenomeno certo infatti da quel momento in avanti poi la commissione che c'era lì al Politecnico ti sciolse e nessuno parlo più di questa storia tra l'altro ricordiamo che provocava anche imbarazzo tra le altre cose immagino immagino tra l'altro quel reperto lì che vediamo che sono comunque di proprietà il diritto di Rolando Pelizza del cugino Alfredo Ravelli che sono stati anche fatti vedere al pubblico nella conferenza fatta a Pavia cioè sono stati fatti a toccare con mano quindi non sono fotografie o fotomontaggi come qualcuno dice ma sono reali quindi e tra l'altro se riusciremo a fare quest'anno questa conferenza che inviteremo appunto le persone coinvolte probabilmente le persone che ci saranno le porteranno anche vedere e toccare con mano infatti poi quando ci soffermeremo anche sulla parte dell'altro del loro poi tu spiegherai bene il perché non si è potuto fare l'analisi anche di quello che anche è molto importante e tante volte anche qua vige spesso l'ignoranza di non saperle queste cose ma si fa da per scontato che siano tutte cose finte fasulle montaggi invece non è così non è così durante questa inchiesta che tu hai tenuto per tutti questi anni visto che parliamo di temi delicati visto che sempre e lo potrete leggere nel libro ogni volta che si cercava di arrivare a una svolta c'era sempre qualcuno o qualcosa e arrivava all'intoppo e non si poteva proseguire oltre quindi come giustamente Rolando diceva guarda che erano quelli della CIA che mi seguivano allora la mia domanda è tu ti sei mai sentito in pericolo di vita nel seguire così a fondo questa vicenda io ho avuto più che altro la sensazione di un rischio un rischio abbastanza marcato nel corso di un'esperienza che io insieme a Rolando Pelizza e a una persona di sua fiducia abbiamo fatto a Lugano in Svizzera cioè siamo stati contattati da una fondazione una fondazione straniera e erano di lingua spagnola perché c'erano queste persone questi dirigenti di questa fondazione di lingua straniera e di lingua spagnola e praticamente ci dissero adesso per farla molto breve perché altrimenti nel libro poi si trova tutto ma se dovessimo stare qui a dare ogni piccolo dettaglio non si finisce più se poi nel libro c'è questa parte che spieghi molto bene è il giusto raccontato e praticamente ci minacciarono minacciarono le nostre le nostre vite dicendo che se qualcuno si arrischiava a a rivelare quello che loro dicevano loro avrebbero provveduto a togliere dalla circolazione la persona che avesse fatto una cosa del genere ora io avevo la netta sensazione che si parlava che questi signori di questa fondazione bleffassero però insomma non si può mai dire anche perché poi questi questi tizi si erano rivelati molto informati anche con informazioni dettagliate sul passato di ognuno di noi quindi in qualche modo avevano fatto delle ricerche ricerche molto private direi e che quindi si poteva pensare si poteva ipotizzare che quando loro esprimevano una minaccia come quella insomma non non era uno scherzo la si doveva prendere in considerazione ecco questo forse è stato il momento in cui mi sono reso conto che dietro gli interessi che si possono nascondere dietro una storia del genere possa esserci anche qualcosa di poco igienico diciamo così per la salute dopo l'uscita del libro come sono cambiate le cose sei stato contattato da qualcuno hai avuto ovviamente nessuno non sono stato contattato da nessuno se non appunto da qualcuno che non so voleva che rilasciasse un'intervista per parlare dei libri insomma cose di questo genere ma per quanto riguarda qualcuno che fosse interessato a questa storia diciamo così in privato no non sono stato contattato da nessuno presumo presumo come è sempre stato nella storia del nostro paese quando c'è qualcosa di scomodo basta ignorarlo perché quando i media del mainstream non 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 parlano di qualcosa di scomodo eccetera nessuno o perlomeno una buona maggioranza della popolazione ignora di che cosa si sta parlando nessuno si pone il problema e la cosa scivola gradatamente nel dimenticatoio credo che diciamo così il sistema usato sia quello beh sicuramente se uno non ne parla prima o poi si presume che vada tutto nel dimenticatoio se ne parla e quindi la cosa muore lì adesso per fare un inciso su magari persone che non hanno ancora mai conosciuto questa storia e magari iniziano a sentirne parlare stasera durante la nostra intervista e quando poi andrà in onda cioè Rino è comunque ha lavorato tantissimi anni come giornalista per il giornale cioè non un giornale da poco ma ha seguito diverse inchieste tra cui questa che è una delle più famose ma anche altre molto importanti quindi sa bene di che cosa stiamo parlando e soprattutto di quello che c'è dietro alla censura e a tutto quello che può essere scomodo a molte persone ricordiamo è colpa mia è colpa mia che non mi sono presentato perché io sono un giornalista professionista vengo dal giornale di Montanelli dove sono rimasto per circa 30 anni e infatti poi sono andato in pensione mentre ero al giornale e mi sono sempre occupato di cronaca politica economia esteri cultura per cui insomma e ho lavorato sia nella redazione Ligure quella di Genova del giornale sia nella redazione centrale di Milano era gioveroso dirlo più che altro anche per chi magari non ti conosceva ancora o poi non conosce il caso ma è una pelizia perché ce ne sono ancora tantissime persone anzi tanti che magari non sanno neanche chi sia Maiorano o chi sia stato Rolando Pelizza e quindi motivo per cui anche siamo qua per far conoscere anche il libro è doveroso anche dire che le persone che sono state anche intorno a Rolando e che tuttora stanno cercando di portare avanti questa storia sono uno su tutti ovviamente il cugino Alfredo Ravelli che ha anche scritto ed è l'unico demografo ufficiale di Rolando Pelizza e che quindi c'è la possibilità anche di conoscere meglio la storia attraverso attraverso questi libri ecco lo faccio vedere qua questo è Alfredo Ravelli nonché tutte le perizie come hai detto anche tu prima che riporti anche nel tuo libro che sono state fatte quindi non cose campate in aria a vedere quelle grafologa grafologa la dottoressa Sala la dottoressa Miliana Sala quindi abbiamo delle perizie fatte da lei abbiamo delle perizie fatte dall'ingegnere Michele Vigiello che collabora con le forze dell'ordine quindi quando io sul normale mi sento o leggo sotto scritto che è tutto inventato è tutta una truffa attenzione perché è tutta una truffa fin tanto che uno parla e dice e non prova niente ma quando dietro ci sono anche come hai detto tu prima un fatto di cronaca riportato con prove articoli giornale e perizie allora lì diventa un po' più complicato dire che è tutta una truffa poi mettiamo il condizionale su tante altre situazioni della storia perché è dobboso farlo ma come hai detto tu prima quando abbiamo fatto vedere uno dei reperti insomma bisogna su certe cose purtroppo magari non ci stiamo perché sono avvenute ma dire che sono false mi sembra un po' eccessivo ecco tutto qua insomma era giusto anche fare un piccolo appunto e poi adesso andiamo ad approfondire ma sappiamo che Rolando era anche un tuo amico come hai detto prima perché oltre a dopo come si faceva a non diventare amici di una persona che comunque era difficile non far solo amico perché poi era una buona persona che ha sicuramente cercato di fare sempre anche del bene e ti sei sentito in difficoltà a dover scrivere determinate situazioni anche molto delicate che sono riportate nel libro certo in un certo senso sì in un certo senso sì ma ma noi eravamo amici noi siamo diventati amici Rolando e io ma pur rispettando a vicenda i rispettivi ruoli cioè lui sapeva che io ero un giornalista che voleva conoscere questa vicenda dall'interno voleva praticamente spiegare come erano andate le cose e lui invece era una il protagonista di questa storia e era tenuto a non dire determinate cose per cui infatti spesso e volentieri quando iniziava a parlare con me diceva parlo al giornalista o parlo all'amico e ora io non volevo che chi legge chi leggesse e chi poteva leggere il mio libro e si facesse un'idea diversa da da Rolando ed è per questo che io ho pubblicato certe cose certi discorsi che lui mi ha fatto proprio per far capire che tipo di persona fosse cioè la nostra è un'amicizia che è nata col tempo e prima di arrivare a poterci definire amici cioè verso la fine di quei 13 anni che io ho impiegato in questa indagine e ebbene prima di di questo lui nei miei riguardi ha avuto di diverse problematiche nel senso che certe cose non me le voleva dire e poi me ne diceva un pochino poi un altro po' soltanto nel 2014 ha tirato fuori qualche prova parlo delle lettere e delle fotografie ma anche lì forse si aspettava che io le prendessi così bello contento che finalmente c'era qualcosa su cui parlare mentre io non ho seguito quella strada io gli ho detto chiaro e tondo che non avrei accettato né le lettere né le fotografie se non fossero state periziate da professionisti della materia cioè per quanto riguarda le lettere da un perito calligrafo infatti Rolando questa è quella delle foto ed è quella dell'ingegner Michele Vitiello e l'ingegner Michele Vitiello io avevo fatto una ricerca avevo trovato il suo nome l'ho indicato a Rolando e lui infatti andò da Vitiello e propose tutto quanto la perizia che state facendo vedere è composta da 63 pagine è tutta fatta con i moderni metodi di carattere informatico quindi precisi fino al decimo di millimetro e alla fine all'ultima pagina della perizia l'ingegner Vitiello attestava che le fotografie che gli erano state consegnate da Rolando Pelizza e quelle che lui aveva avuto dal biografo ufficiale di Ettore Majorano cioè il professore Erasmo Recami corrispondevano alla stessa persona quindi le foto che Pelizza aveva fornito nel 2014 queste le state facendo vedere erano foto erano foto di Ettore Majorano qui vedete per esempio la distanza tra gli occhi la lunghezza del naso tutta una serie di calcoli che l'ingegner Michele Vitiello fece sia sulle vecchie sia sulle nuove foto e corrispondevano esattamente invece per quanto riguarda la parte calligrafica ripeto venne incaricata la dottoressa Chantal Sala del Tribunale di Pavia che fece tre ottime perizie e anche lì l'esito è inequivocabile perché alla fine di ogni perizia c'era scritto tale lettera è stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore sono queste le cose su cui si dovrebbe parlare nel senso ecco questa è una delle famose lettere cioè noi abbiamo degli elementi che sulla base della scienza forense ci fanno dire che la persona di Ettore Majorana non morì nel 1938 sopravvisse e in anni molto successivi scrisse delle lettere e si fece fotografare questa per esempio è la famosa foto del 1996 si fece fotografare dicevo ed era proprio lui ora per esempio questa foto provocò un mare di polemica ma giustamente vorrei dire perché neanche io ho una spiegazione per questa foto cioè io stesso resto allibito perché a un certo punto la fotografia che ritrae Ettore Majorana vicino a Rolando Pelizza ora Pelizza in quella foto aveva 58 anni la persona che gli sta a fianco a vederla così non ne dimostra più di tra i 40 e i 50 insomma una cinquantina d'anni insomma un uomo appena appena alla mezza età ma è una foto fatta nel 96 e ora dal momento che Ettore Majorana era nato il 5 agosto del 1906 nel 1996 doveva avere 90 anni a voi sembra la foto di un novantenne quella è che questo ha determinato di diversi problemi perché nessuno può dire il motivo per cui per cui quella persona viene ritratta così con un aspetto giovanile ora c'è da dire che la famosa macchina secondo una lettera che aveva inviato nel 1964 Majorana a Pelizza secondo quella lettera la macchina era in grado di svolgere quattro fasi queste quattro fasi sarebbero 1 annichilimento della materia 2 riscaldamento della materia 3 trasmutazione della materia trasmutazione significa cambiare il numero degli elettroni di un elemento e quindi farlo diventare un altro elemento e poi quattro che è la cosa più avveniristica cioè più fantascientifica mettiamola così perché è assolutamente fantascientifica dice che la macchina sarebbe in grado di translare un oggetto inanimato oppure un essere animato da una dimensione all'altra cioè dall'attuale dimensione in un'altra dimensione dopodiché lo riporta nella dimensione originale notevolmente se è un oggetto più nuovo se è un essere vivente animato un essere evidente ringiovanito ora però ma chi se la sente di dire che quell'uomo è stato sottoposto a una cosa del genere cioè ci resta il dubbio è un enigma è un enigma al quale io non cerco assolutamente di dare risposta perché non posso dare una risposta almeno per quello che noi conosciamo non ce n'è l'unica spiegazione sarebbe quello della letter però ripeto è talmente enorme che nessuno si sente di prendersi una responsabilità di questo genere per esempio facciamo il conto della trasmutazione ok parliamo della trasmutazione tanto per diciamo così parlare di qualcosa che colpisce la fantasia della gente cioè qui stiamo parlando della pietra filosofale degli antichi alchimisti no che era in grado di trasformare qualunque cosa in oro ora noi abbiamo filmato del 92 tra l'altro un filmato assolutamente dilettantistico pieno di errori di impostazione di visualizzazioni eccetera un filmato che nel 92 Rolando Pelizza fece per il suo amico Carlo Tralamazza che era un docente di informatica di Bellinzona in Svizzera che lo lo aiutava collaborava con lui ha collaborato con lui per una ventina d'anni quindi era una persona competente che gli dava una mano a fare i programmi della macchina e quella volta Pelizza disse guarda guarda ci sono riuscito finalmente ho fatto la trasmutazione e ti mando il video così te lo guardi il video venne fatto sul nastro magnetico quindi il nastro magnetico non è come le nostre tracce digitali adesso che possono essere modificate eccetera il nastro magnetico era molto più rudimentale da quel punto di vista comunque questa macchina venne questa scusate questo filmato venne sottoposto a due perizie di due professionisti e entrambi questi professionisti dopo aver analizzato fotogramma per fotogramma l'intero video che era di 103 minuti sì esatto arrivarono tutte e due alla stessa conclusione cioè che il video non era stato manipolato in nessuna delle sue parti per cui tutto quello che si poteva dire era che in questo video si vedeva la trasmutazione di vari oggetti in oro puro almeno questo è quello che diceva perizia in metallo in metallo in metallo l'unico appiglio scientifico che c'era in questo video era il fatto che quando lui prendeva questo cubo ex gomma piuma diventato di metallo e lo poneva su una di quelle bilance meccaniche come si usava una volta forse ancora oggi qualcuno le usa per scopi commerciali erano quelle con 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 i pisetti quando mi sognava un video che comunque poi lo metterò nel link sotto in descrizione però un video che è integrale sia sul tuo canale perché tu l'hai postato e quindi è visibile su youtube sia la parte diciamo spazzata dove si vede solo la tramutazione perché dura 103 minuti ma se volete guardare anche il video totalmente integrale che lui fece in quel periodo quando era in Spagna tra l'altro di una telecamera che gli era anche stata prestata non era neanche sua quindi è tutto e invece abbiamo i detentori della verità che dicono che è tutto finto è stato fatto non è lo studio televisivo ma era un video era un video rudimentale pieno di difetti fatto anche abbastanza male quindi comunque quando lui metteva questo cubo sulla bilancia e andava a pesare veniva fuori che questo erano cubi di 15 centimetri di lato ok ecco qui si vede la fatica lui diventava tutto rosso perché mettendo questo cubo sopra la cosa veniva fuori 65 kg etto più etto meno da cubo a cubo però insomma intorno ai 65 kg l'unico l'unico spiraglio scientifico che c'è in tutta questa storia è che se uno si prende la briga come ho fatto io di fare una piccola equazione cioè calcolando il volume del cubo e calcolando il peso specifico dell'oro viene fuori che è un cubo di metallo di quelle dimensioni e di quel volume a causa del peso specifico assolutamente particolare dell'oro noi sappiamo che l'oro è uno dei metalli più pesanti che ci siano c'è solo il tungsteno che è più o meno forse leggermente di più che pesa leggermente di più ma insomma l'oro è assolutamente uno dei metalli più pesanti che ci sia che esistano ebbene un cubo di quel volume di quelle dimensioni non può essere altro che oro se 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 risulta che sia 15 per 15 ok un cubo 15 centimetri di lato che pesa 65 chili secondo quelli che sono calcoli assolutamente scientifici non può essere altro che di quel metallo questo è l'unico appiglio scientifico che c'è in tutta questa cosa perché altrimenti quello che si vede la trasmutazione l'immagine la luce che viene provocata da questo passaggio diciamo così da elemento a elemento tutto è quello che vediamo ma non può essere portato come spiegazione scientifica e sono semplicemente immagini immagini che non forniscono una spiegazione di carattere scientifico se noi così vorremmo che fosse cioè non puoi ricavare una una verità di questo genere semplicemente guardando il video ci vuole ben altro bisogna controllare l'operazione bisogna verificare i pesi le misure le circostanze cioè tutto prima di poter dire ah sì quello è oro ok quindi ripeto a eccezione di quello che è il il peso e il volume di questo oggetto trasmutato eventualmente o presunto tale allora a prescindere da quello tutto il resto non è probante se da un punto di vista scientifico ricollegandomi a quello che dici così come non possiamo provare che questo sia oro i detentori della verità dall'altra parte non possono dire con la matematica certezza che sia un falso cioè che il video non lo sappiamo non lo sappiamo e infatti da qui mi ricollego cioè sappiamo che ci sono molti detentori della verità in giro per il web sempre che sostiene a gran voce che questa storia è totalmente inventata e è più facile da pensare è molto più facile e lì sta la correttezza di usare il condizionale sempre su tutte queste questioni fino a quando cioè la parte che è stata analizzata e poi da lì in poi usiamo il condizionale ma fino alle analisi come le lettere come le perizie calligrafiche che sono state fatte e quelle del video ci affidiamo ai professionisti del settore perché le fortuna esistono e è gente che lavora comunque su casi totalmente veri e anche a volte omicidi e così perché non dobbiamo fidarci di questi professionisti punto di domanda e qui lasciamo la risposta aperta a questi detentori della verità vado avanti con la domanda oppure anche se vuoi Rino se sei d'accordo potremmo se vuoi dividerla anche siccome l'argomento è molto interessante che ci sarebbe da parlare per giorni e giorni se vuoi possiamo dividerla anche in due siccome le domande sono tante siamo a circa un'ora di conversazione se vuoi io andrei avanti con altre due tre domande e poi magari facciamo una seconda puntata dove facciamo la seconda parte dell'intervista se sei d'accordo come vuoi per me va benissimo visto che parliamo dell'oro se sei d'accordo tu io parlerei di quando Pelizza mi ha consegnato quella che ha chiamato la prova definitiva sì certo quella che la medaglietta la medaglietta che c'è quasi alla fine del tuo libro che tu racconti sì assolutamente allora tanto per tornare su questo discorso trasmutazione per far capire come funzionano le cose quanto sia difficile poter accertare se un oggetto è d'oro o meno perché per far analizzare per far sottoporre ad esami professionali un oggetto che risulta o risulterebbe essere d'oro bisogna che questo oggetto abbia delle caratteristiche particolari allora facciamo un inciso un bel giorno era nel 2021 era diciamo dalla primavera all'estate del 2021 Rolando Pelizza viene a casa mia e mi dice oggi ti devo consegnare una cosa ed è la prova definitiva tira fuori un portatessere di pelle nero e da questo portatessere estrae una medaglietta una medaglietta di circa tre è questa qui di circa tre centimi mi pare 2,9 mi sembra che sia 2,9 per 2 2,9 l'altezza e circa due centimetri la larghezza e mi dà questa medaglietta e mi dice questa io l'ho trasmutata dice veramente ha detto fa parte di una partita di circa 43.000 non si ricordava se fossero 42.000 o 43.000 medagliette e questa qui è una di quelle medagliette io gli ho detto ma prima di poter affermare una cosa di questo genere bisogna farla periziare e vedere di che cosa si tratta perché tu mi dici che l'hai trasmutata però io prima devo vedere se è vero o non è vero e qui si entra in quello che è la parte legale di tutta questa storia è bene approfondirlo eh sì è sì è bene approfondirlo perché non è che uno può portare mettiamo uno eredita dalla zia che muore dei gioielli e vede che c'è una medaglietta questa medaglietta vede che ha un certo peso eccetera però dice ma sarà d'oro non sarà d'oro per far periziare questa medaglietta questo signore deve recarsi da un gioielliere e gli dice per cortesia mi dica se questa medaglietta è d'oro ora esiste una prova molto banale che praticamente tutti i gioiellieri di cui tutti i gioiellieri dispongono che è quella con l'acido nitrico cioè si si prende la la medaglietta la si passa su una pietra sembra un pezzo di ardesia in effetti si chiama pietra di paragone è una piccola un piccolo rettangolo di pietra e quando si passa la medaglietta su questo su questo oggetto su questa pietra resta inciso soprattutto se parliamo di un oggetto d'oro resta inciso in modo abbastanza marcato un segno un segno appunto di color oro a quel punto il gioielliere estrae una una piccola boccettina di acido nitrico e mette un paio di gocce due a volte tre comunque non più di tre su sul segno lasciato dalla medaglietta se questo segno scompare non è oro se questo segno rimane appena appena visibile vuol dire che è oro ma con una caratura molto bassa se invece il segno resta esattamente così come l'aveva lasciato la medaglietta nonostante l'acido nitrico allora quella è la prova che stiamo parlando di un oggetto non solo d'oro ma anche di una certa consistenza di una certa caratura ok qual è il punto per fare per chiedere un servizio di questo genere l'oggetto che si vuole far periziare per legge secondo la legge italiana ma anche le leggi degli altri paesi addirittura in Svizzera è leggermente più complicato e mettiamo qui da noi l'oggetto deve riportare due punzonature quella del produttore dell'oggetto cioè di colui che ha fatto la medaglietta che ha stampato queste medagliette e quello della caratura cioè a che livello è l'oro il contenuto dell'oro nel metallo di quella medaglietta questo deve essere assolutamente sicuro cioè se io porto una medaglietta da un gioielliere e questa medaglietta risulta essere d'oro ok cioè fanno le prove e risulta essere d'oro ma questa medaglietta non ha né la punzonatura del costruttore né la punzonatura della caratura il professionista in questione giovediere è tenuto per legge a sequestrare l'oggetto e a chiamare immediatamente l'autorità giudiziaria cioè uno finisce impacchettato dalla polizia e portato davanti a un giudice ok questo è quello che stabilisce la legge italiana dicevo prima la svizzera perché in svizzera le punzonature invece di due sono tre perché c'è anche una punzonatura particolare per della confederazione svizzera quindi come si fa a portare un oggetto di questo genere a una perizia professionale se non ha nessuna punzonatura perché la medaglietta in oggetto e lì c'è la fotografia sul libro come chiunque può vedere non riporta alcuna punzonatura non riporta alcuna punzonatura e il peso della medaglietta era di 7,61 grammi tenete presente che io ho trovato delle medagliette abbastanza grandi non grande come quella perché sono leggermente più piccole e il peso il peso massimo che io ho trovato in una medaglietta era di 3,4 grammi quella pesa 7,61 ok? quindi è inequivocabilmente d'oro ma nessuno può portarla a fare periziare perché si finisce veramente nei guai infatti io l'ho restituita gli ho detto tante grazie però mi devi spiegare come faccio ad analizzare una cosa del genere certo sì perché il bello di Rolando era che ti dava le prove ma dice guarda io le ho qui però dopo ci dovevamo fermare perché non si poteva andare oltre come era successo con altri oggetti perché qui è vero tu hai avuto modo della medaglietta che riporti nel libro ci sono i cubi ci sono questi pezzettini d'oro ma ci sono anche altri elementi che sono stati tramutati in oro per altre persone che nel tempo erano coinvolte nella storia e alcune si vedono anche su internet è solo che purtroppo a un certo punto bisogna anche fermarsi perché non si può andare oltre come ben tu hai spiegato e quindi qui andiamo a rispondere di nuovo a quelli detentori della verità che dico eh ma bastava farle analizzare ecco adesso ho detto la risposta del perché non è possibile farlo tu e vediamo tra l'altro scusa Mauro bisogna anche mettersi nei panni dell'autorità giudiziaria se loro si vedono arrivare un oggetto di questo genere che è d'oro ma che non riporta nessuna funzionatura possono pensare che in circolazione ci sia una partita di questi oggetti che sono diciamo del tutto estranei all'imposizione fiscale ok quindi sono oggetti illegittimi che non possono essere messi in commercio per cui ci sta tutta che l'autorità giudiziaria pretenda che ogni oggetto riporti quei segni inequivocabili che determinano chi ha costruito l'oggetto e quanto metallo d'oro ci sia in quell'oggetto stesso ok quindi è assolutamente se uno vuole provare a fare un esperimento di questo genere provi a portare un se ce l'ha non credo perché in circolazione credo che ce l'abbiano solo forse sai chi ce l'ha qualche politico al quale Rolando aveva regalato queste medagliette perché so per certo che alcuni politici hanno ricevuto in omaggio queste medagliette come ricordo della della questione pelizza anche perché anche qui poi ne parleremo magari la prossima puntata sono stati coinvolti nel tempo persone politiche anche di allora ovviamente adesso tante negli anni cioè teniamo conto che la storia parte dal 1958 per Rolando quindi cioè sono passati posso citarne qualcuno allora Giulia Andreotti Mino Martinazzoli Flaminio Piccoli Loris Fortuna queste erano persone coinvolte tutte direttamente in questa questione cioè sono venute a conoscenza di questa e hanno anche come dire sono rimaste coinvolte anche in certe trattative per esempio nel rapporto che c'è stato che c'è stato tra lo stesso Perizza e il governo italiano ecco tanto perché allora Andreotti era presidente del consiglio tra l'altro infatti quando ci fu nel 76 quando questa macchina venne come dire ufficialmente testata dal governo italiano e c'era il terzo governo Andreotti infatti Loris Fortuna allora che è quello che se ne occupò diciamo così personalmente e era presidente della commissione industria della camera mi pare poi c'è stato il ministro Mancini che è anche ha ministro Mancini no no occhio 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 perché questo è un errore che fanno molti e ti spiego perché e siccome lui era un console a dire la verità Rolando Pelizza Rolando Pelizza e si rivolgeva a Mancini Antonio Mancini mi pare sì e si rivolgeva a Mancini chiamandolo sempre ministro e quindi anche nella biografia di Alfredo Rabelli si parla del ministro Mancini perché lui Pelizza parlava del ministro Mancini molti hanno confuso il ministro Mancini con l'altro Mancini socialista va bene che era sempre dello stesso periodo tra l'altro non era così Mancini il Mancini di Pelizza di cui parlava lui era ministro plenipotenziario che cosa significa il ministro plenipotenziario è colui che sta subito sotto l'ambasciatore ok infatti Mancini faceva parte della carriera diplomatica infatti era consolo italiano a Nizza quando lui l'aveva conosciuto essendo nel corpo diplomatico era ministro plenipotenziario cioè era subito sotto l'ambasciatore e Pelizza lo chiamava ministro ma non era un ministro del governo ok sono due cose molto diverse uno fa parte del corpo diplomatico l'altro è un politico che fa parte delle istituzioni italiane quindi sono due cose molto diverse ci si confonde ci si confonde spesso chiamandolo ministro Mancini perché lui lo chiamava così era ministro plenipotenziario infatti aveva rispetto di tutte anche le cariche che gli diceva sempre dottore che raccontava le sue vicende giustamente parlava di questi personaggi con anche dovuto rispetto giustamente anche perché ne ha conosciuti tanti nel libro tra l'altro li potrete anche trovare perché tu racconti molto 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 bene tanti particolari allora io mi fermerei qua per oggi e poi perché questa storia è talmente bella che non voglio neanche sembrare di darti poco tempo per ogni singola risposta perché invece voglio darti tutto il tempo che è giusto concederti per ogni domanda che poi avevo preparato siccome le domande in totale non sono poche perché sono 24 forse anche di più sono 25 noi siamo arrivati più o meno alla metà ma giustamente ci siamo soffermati anche su alcuni punti che mi sembrava anche doveroso spiegare quindi io farei un'ulteriore puntata una seconda per andare avanti con questa storia così diamo tutto il tempo che serve per parlare in maniera corretta di questo caso e di questo libro che è molto molto bello che io comunque vi consiglio quando andrai non dalla prima parte se non l'avete letto prendetelo così quando andate a vedere la seconda parte di questa intervista ne saprete già comunque di più e avrete modo anche di quando ascenderete di capire meglio determinate cose perché io pur avendo vissuto in prima persona cioè ho conosciuto Rolando ho vissuto alcune situazioni ho conosciuto Rino quando mi sono letto il libro quando mi sono letto tutto d'un fiato mi sono segnato tante cose a battita perché poi ho la ripromessa di richiederle a Rino per approfondire ancora di più perché anche a me piace comunque quando parlo di questa storia dire le cose come stanno e non inventarmi niente e continuerò nel mio limite del possibile quando qualcuno offende o dice le cose a sproposito ribattere e spiegare la situazione come deve essere fatta motivo per cui avevamo programmato quella famosa conferenza dove sarebbe stato presente anche Rolando e dove finalmente Rino avrebbe potuto sedersi su una poltrona lui da una parte e dall'altra Rolando ha fatto questa famosa intervista che purtroppo non ci è stato permesso di fare per il Covid e adesso purtroppo con la morte di Rolando non potremmo fare più comunque ci siamo ripromessi di riproporre questa conferenza ovviamente con un format diverso perché è venuto a mancare non solo lui ma anche ricordiamo un altro grandissimo professore che io ho sempre stimato che è l'unico biografo ufficiale di in questo caso Majorana purtroppo anche lui è mancato nel 2001 mi sembra mi pare purtroppo è così va bene io Rino ti ringrazio moltissimo Mauro mi lasci dire un'ultima cosa io vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che ci stanno ascoltando che le mie ricerche non sono state come dire ideate per arrivare ad una conclusione di comodo io quando ho iniziato a indagare su questa storia non mi sono mai posto un obiettivo sicuro e certo quello che veniva fuori veniva fuori a prescindere cioè qui ci troviamo di fronte ad un caso stranissimo un caso che non faccio nessuna fatica a dire che è impossibile da accettare così come viene viene raccontato però questo questo stessa questa stessa vicenda è così ricca di dettagli e particolari che sono veri che sono vissuti che meriterebbe un approfondimento però ripeto io non volevo arrivare a nessun risultato infatti il mio libro è quasi 500 pagine 496 pagine io racconto semplicemente tutto quello che è accaduto e che ha a che fare con la mia esperienza personale e con certi documenti che tra l'altro mi sono stati forniti come dico fin dalle prime pagine del libro proprio da Alfredo Ravelli il quale un giorno tanto tempo fa mi portò nel suo archivio dove lui conservava dei faldoni 28 faldoni per essere precisi 28 faldoni di documenti su Rolando Pelizzi e alcuni di questi documenti che io ho riportato nel libro non li aveva né messi lui nella sua biografia né io ne avevo parlato nei miei articoli perché non volevamo mettere in imbarazzo Rolando adesso Rolando non c'è più la gente merita qualche risposta precisa per cui è giusto che queste cose si sappiano ok? questo è il quadro della situazione infatti Ravelli e io lui è l'unico che ha tracciato la parte storica di Rolando Pelizza io mi sono occupato di un'inchiesta giornalistica di questi ultimi anni degli ultimi 13 anni quindi sono due lavori complementari che fanno comprendere a chi legge quanto sia complicata questa storia ci tenevo a chiarirlo no no è giusto giusto anche perché come tu 26 faldoni guardate che sono tanti vuol dire che di cose da dire ce ne sono veramente tante cose ancora non dette tra l'altro che speriamo che un po' alla volta possono comunque essere raccontate perlomeno raccontate poi giustamente noi ripeto lo dico ancora usiamo il condizionale perché uno può credere o non credere ma da un lato c'è questa parte di questo libro è storia ed è cronaca come giustamente ha detto Rino e rimane il fatto che il caso perché è proprio un caso questo non per niente il titolo è proprio il caso ma io erano a penizza lo potete trovare comunque poi vi metto il link sotto in descrizione lo potete trovare anche su Amazon questo qua oppure l'ordine libreria come preferite ma ve lo consiglio davvero perché al di là che della storia in sé è veramente scritto bene ed è un piacere proprio leggerlo perché fa parte della storia anche nostra italiana perché tutte e due comunque sono persone della nostra Italia io ti ringrazio Rino e ti do tutto l'appuntamento in un altro incontro e poi ci mettiamo d'accordo insomma in privato per quando registrarlo e poi mandarlo in onda e mi ha fatto davvero davvero piacere questa serata e comunque racconti in maniera molto molto precisa tutto quello che è questa storia di Rolando Pelizza e di Ettore Majorana grazie a tutti di averci seguito e noi ci vediamo al prossimo video sempre sul canale Mauro Mastra dei Tele grazie mille a tutti e buona serata buona serata a tutti grazie a tutti